Fatica e impegno, ma anche rispetto delle regole e fair play, il Consiglio regionale ha voluto celebrare il talento di otto atleti toscani, consegnando ai giovani sportivi, tutti rigorosamente pratesi, un riconoscimento per la passione e i traguardi raggiunti. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente dell'Assemblea regionale toscana Eugenio Gianni, della promotrice dell'iniziativa, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, del consigliere Nicola Ciolini e dei sindaci di Prato e Montemurlo, Matteo Biffoni e Mauro Lorenzini. L'omaggio della regione è andato alla fighter professionista Emily Abbi per i meriti sportivi e i traguardi conseguiti nel Muay Thai, di cui è campionessa del mondo. A Chiara Tabani e Giuditta Galardi, stelle della pallannuoto femminile, a Cristian Giagnoni, vincitore del Giro d'Italia Handbike 2018, e ad Andrea Mattoccia, campione di MMA, la disciplina delle arti marziali miste. Premiati anche Desiree Cocchi, giovane fuoriclasse nel pattinaggio artistico Juniores, il promettente Lorenzo Dallaporta, pilota di Moto3, e la pluripremiata ciclista Vittoria Guazzini. Per Dallaporta e Vittoria Guazzini hanno ritirato il riconoscimento ai genitori. Sono felice di essere qui per questa premiazione, che fa sempre piacere. A breve farò, spero, se va tutto bene, il debutto nel Pugilato Pro, e dovrei fare un match a fine giugno, facendo il debutto, e poi se va tutto bene combatterò a metà luglio a Prato, e finalmente dopo diversi anni combatterò in casa, quindi speriamo, non vedo l'ora, e se ci sono, venite a fare tifo. Sono molto felice oggi di essere qua, di ricevere questo premio. I prossimi obiettivi, tra un mese parteciperò ai prossimi campionati italiani, e le prime tre atleti parteciperanno poi ai campionati del mondo a meso a luglio, che saranno a Barcellona, e poi ci saranno i campionati europei in Germania, quindi spero di poter raggiungere entrambi gli obiettivi. Quest'anno è già cominciato il mio quarto giro, le prime due tappe sono andate più che bene, perché ho fatto primo e primo, quindi partire con il piede giusto è perfetto. Questa premiazione mi fa molto piacere, perché ovvio sono sempre riconoscimenti, e sono situazioni dove ti rende consapevole quello che fai, quindi ti dà una mano a spingere ancora di più. Belle storie da raccontare, un modello di vita per gli altri ragazzi che già vivono, si avvicinano allo sport per la prima volta.